Per oggi ho deciso di provare gli ovetti di pasta frolla che si sciolgono in bocca. Vediamo insieme come preparare. Per prima cosa mettiamo in una terrina farina e fecola. Successivamente aggiungiamo zucchero a velo, buccia grattugiata di un limone, un pizzico di sale. Quindi miscelare tutti gli ingredienti. Adesso aggiungiamo i rossi d'uovo setacciati. Per la ricetta ho utilizzato la frolla per fare i canestrelli. Miscelare ancora gli ingredienti e per finire aggiungiamo il burro a pezzi. Tastare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un panetto morbido. Potete utilizzare la planetaria o altrimenti il bimbi. Svolgere nella pellicola e lasciate riposare la pasta frolla nel frigo per circa due ore. Scorso questo tempo stendere la pasta frolla con l'aiuto di un mattarello. Fate le formine a piacere, io ho utilizzato questa forma di ovetto. Nella metà degli ovetti create un cerchio. Svolgete in una teglia affoderata da carta forno e andiamo in cottura a 170 gradi per circa 10 minuti. Svolggete la superficie con dello zucchero a velo e quindi siamo pronti per la farcitura. Ho utilizzato questa golosa crema spalmabile alle nocciole. Coppiate i biscotti, sferiteli in un vassoio ed eccoli pronti da gustare. Provateli!